Musica Cari amici di Foto Tra Le Mani, oggi in diretta in questa scampagnata con il ritiro dei bambini di prima comunione stiamo vivendo questo momento che ci prepara a vivere che cosa? La prima comunione Bravissimi, la prima comunione e come attività di oggi abbiamo scelto una cosa molto bella realizzare questo cartellone che esprime che rappresenta che cosa? La gioia ma rappresenta il girasole perché abbiamo scelto il girasole come segno della prima comunione? Voi avete disegnato su questo cartellone tanti fiori dove avete scritto il vostro nome Bravissimi Come il girasole che si volta e segue il sole che per noi è Gesù anche noi guardiamo, ci voltiamo verso il sole, verso Gesù che ogni giorno ci vuole bene soprattutto in questo tempo, nella prossima domenica vuole venire ad abitare in noi nella Eucaristia, nella comunione con questo vi salutiamo e vi diciamo buona domenica a tutti Ciao! 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 Ciao!